Oh! Botte, calci e pugni e ad un certo punto è saltata fuori anche una stampella per raccolpire gli avversari. Insomma una vera e propria maxirissa tra giovanissimi, quella che si è cesa ieri pomeriggio, poco prima delle 18, nella centralissima piazza San Francesco. Il gruppo di giovani infatti è arrivato nel centro storico Aretino prima dell'orario di chiusura dei locali con l'intento di consumare un ultimo drink. In evidente è stato alterato, io mi sono rifiutato di somministrargli da bere e poi è successo quello che è successo, sono usciti, hanno cominciato a infastidire clienti e passanti, poi è scoppiata, non so come, ma è scoppiata la scintilla che ha dato il là al tafferuglio. E così si è cesa, complice probabilmente il troppo alcol in corpo, prima una furibondalite e poi una vera e propria rissa. Facciandomi qui dal locale ho visto il tafferuglio, ho visto una stampella in aria, quello sì, però poi non ho visto altro, però non posso dire che non si sono picciati, si sono picciati anche fuori. I giovani hanno così creato attimi di panico in piazza San Francesco, prima della fuga all'arrivo delle forze dell'ordine. Sono sceso giù, visto che c'era un po' di pattuglie della polizia, che stavano, ragazzetti che probabilmente avevano fatto delle confusioni. Alcuni dei giovani sono scappati in via Cavour, ma il gruppo più consistente ha tentato la fuga in via Cesalpino, dove i militari hanno fermato quattro ragazzi, due aretini incensurati, un cossovario e un magrebino, con qualche precedente penale. Hanno tutti attorno ai 20 anni, sono residenti a Pieve e Santo Stefano. I quattro sono stati arrestati e adesso dovranno rispondere del reato di rissa aggravata. Sono infine ancora in corso ulteriori indagini per identificare gli altri coinvolti nella rissa.